musica Di Maio che è? oi atto là girate qua Di Maio che è? Di Maio e che stai facendo con questa scarpa in capa? tengo la scarpa in capa perché la scarpa tengo lontano gli orsi ma qua non ci stanno orsi lì che funziona ma non mandi me lontano gli orsi ha 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 ha